Oggi appunto parliamo di sicurezza sul lavoro e vi diciamo che tra gennaio ed agosto sono stati denunciati quasi 485.000 casi di infortunio e malattie professionali. Purtroppo c'è una crescita, una crescita di quasi il 39% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La regione col maggior numero di casi è la Lombardia con 90.000, seguita dal Veneto con 57.000. I settori più interessati sono in qualche modo sempre gli stessi, ovvero le costruzioni e l'industria in generale. I decessi sono stati 677 in calo del 12%, però diciamo che 677 morti sul lavoro sono davvero tanti. Ne parliamo perché il 9 ottobre si celebra la 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro con varie manifestazioni organizzate dall'Anmin in tutta Italia sotto l'alto patrocinato della Presidenza della Repubblica e anche della RAI. Oggi, come ieri, lo diciamo, non è accettabile morire di lavoro, ma dai numeri che vi abbiamo detto sembra che non cambi nulla nonostante appunto la tecnologia, la consapevolezza e le norme che poi tra l'altro sono diventate anche più stringenti. Quest'anno la manifestazione principale sarà a Fiume Veneto in provincia di Pordenone nell'azienda Calabere e in qualche modo sarà rivolta in particolare ai giovani come Lorenzo Perelli, non so se ve lo ricordate, di 18 anni, che ha perso la vita durante un periodo di formazione in azienda. Davvero purtroppo una vicenda triste che ha avuto purtroppo tra l'altro anche dei precedenti. Allora, noi abbiamo in linea Emilio Deandri che è vicepresidente dell'Anmil. Buon pauligio Deandri. Buon pauligio a voi. Senta, perché tutti questi incidenti? Sembra che in sostanza non cambi quasi nulla da un anno all'altro, anzi addirittura sono aumentati. Noi abbiamo parlato solamente dell'aumento del 40% delle denunce di infortunio. Quel numero delle morti bianche comunque, anche se in legge lo calo, parliamo sempre di tre morti al giorno. Per non parlare di quei ragazzi che purtroppo alternano a scuola lavoro, che perdono la vita. Sono stati tre ragazzi purtroppo che hanno perso la vita in questo modo. Di solito uno manda alla scuola e quindi affida i stovitili allo Stato, non a morire. E poi tutti quanti bypassiamo le malattie professionali, le quali sono in grande crescita. E anche lì sono dati preoccupanti. E purtroppo di chi si ammala sul lavoro nessuno ne parla, perché non sono morti violente, ma sono morti comunque da malattie professionali. Vedi quelli derivati da letto guinanti come l'anianto, il fibro cancerogeno. Tra l'altro appunto nel 2021 c'erano 772 morti, adesso sono 677, meno 12% però è comunque un numero davvero agghiacciante. Addirittura in Val d'Aosta abbiamo avuto un aumento del 133%. Senta De Andriola, lascio un attimo in linea perché poi rimanga in linea, senta con noi il proseguire della trasmissione. L'abbiamo detto, 485 mila casi di infortuni e malattie professionali. Ecco, un numero davvero insostenibile per una nazione europea come l'Italia. Il Papa ad esempio a gennaio scorso ricevendo l'associazione Costruttori Edili ha detto purtroppo se si guarda la sicurezza dei luoghi di lavoro come a un costo si parte da un presupposto sbagliato. La vera ricchezza, ha detto ancora Papa Francesco, sono le persone. Senza di essa non c'è comunità di lavoro, non c'è impresa, non c'è economia. Allora, chi ha vissuto una vicenda terribile, diciamo, è Andrea Lanari. Sentiamo proprio la sua storia. Sì, diciamo che allora il mio lavoro principale era quello di costruire stampi per tranciatura di materie, per tranciatura, lamiere e stampaggi in iniezione materie plastiche. Io all'interno dell'azienda, in quel 2012, ero adibito solo e esclusivamente alla produzione di stampi di tranciatura. Quel giorno, quel 4 giugno 2012, io dovevo fare un collaudo di un grande stampo di tranciatura. Collaudo che veniva effettuato attraverso l'utilizzo di un macchinario detto pressa. Purtroppo, non avendo una pressa adeguata all'interno dell'azienda per poter fare questo collaudo, mi sono rivolto ad una vita esterna. Arrivato lì in questa azienda, il titolare ha inserito lo stampo all'interno di questo macchinario. L'unica mansione che io mi sono delegato di lasciare per me, era quella di inserire la lamiera da tranciare per fare questo collaudo. Purtroppo, quando metto dentro questa lamiera, vado per centrare questo foglio di metallo e non si sa perché o per come la pressa si abbassa di colpa e mi trancia entrambe le mani. E com'è cambiata la sua vita da quel momento? Allora, diciamo che la vita è cambiata purtroppo drasticamente perché ritrovarsi di un punto in bianco a 35 anni senza mani e poi non è che è cambiata solo a me, è cambiata anche a tutta la mia famiglia. Di lì a poco ho dovuto anche sopportare il trauma della separazione. I miei figli erano piccolini, addirittura rischiando di perdere la vita quel giorno non avrei neanche potuto vedere mia figlia che è nata sei mesi dopo il mio infortunio. Però, ben o male, grazie ad Annemil, che mi è stata molto vicino, l'associazione nazionale mutilata in valle del lavoro, ad Ineil, che ben o male mi ha preso, mi ha coccolato, tra virgolette, fornendomi anche gli ultimi ritrovati in campo protesico, sono riuscito con il tempo, con tanto lavoro, con tanto sacrificio, con tanto addestramento a riacquistare una vita più che dignitosa, anche se purtroppo non sarà più come la prima. E lei oggi che cosa fa? Io oggi, insieme ad Annemil, sono diventato testimone al formatore per la salute e la sicurezza, grazie al progetto di Annemil e della scuola di testimonianza. Praticamente siamo persone, comunissimi, comunissimi formatori per la salute e la sicurezza, specialità dei testimoni al formatore Annemil e che sono tutti infortunati sul lavoro. Quindi cerchiamo, con la nostra testimonianza, con la storia del nostro infortunio, cerchiamo di consapevolizzare il datore di lavoro e i lavoratori che la cultura della sicurezza non è un obbligo di legge da espletare o con pratiche burocratiche oppure giusto così perché si deve fare, ma è un bene fondamentale, imprescindibile per la salute propria della persona. Lei sicuramente a questo punto vedrà molte aziende, ma perché in Italia si continua a risparmiare sulla sicurezza? Allora, purtroppo, secondo me, è una questione, proprio una mancanza di cultura. Tante persone vedono la sicurezza come un costo e non come un investimento e molto probabilmente non sono neanche le persone che magari rischiano queste morti sul proprio posto di lavoro, sul proprio luogo di lavoro, non sono a conoscenza dei postumi che porta a un infortunio grave come il mio o addirittura alla morte, perché diciamo che sì, effettivamente la sicurezza è un costo, ma risarcire un infortunio mortale o grave come il mio comporta costi e oneri maggiori sia all'azienda sia anche a tutta la lita sociale. Lei è stato risarcito per il danno che ha avuto? Ormai sono passati dieci anni e purtroppo ancora sono in fase di processo civile e sto aspettando quel minimo di risarcimento d'anni che spero che purtroppo non mi farà ricrescere le mani, però almeno potrebbe darmi un'opportunità magari per tentare nuove strade di protesizzazione. Allora, Diandri ha sentito, dopo dieci anni nessun risarcimento, sicuramente ci sarà una pensione ma ci dovrebbe essere un risarcimento maggiore, pure la burocrazia ci mette lo zampino. Sì, innanzitutto un saluto caloroso all'amico Andrea che sa che gli voglia un mondo di bene, gli auguro una buona giornata dell'imbaglio del lavoro. Sì, il problema di Andrea purtroppo è un problema che affligge moltissimi invagli del lavoro, perché purtroppo i processi sono lunghi e spesso le aziende la fanno franca. La fanno franca non solo per i lunghi processi, perché voi sapete che si fa prima il processo penale, poi bisogna fare il processo civile per avere il giusto risarcimento. In questo frangente molte aziende spariscono, falliscono. Il problema che ci poniamo è davvero che i processi devono essere veloci e devono essere rapidi, affinché quel lavoratore non muore due volte. Perché il problema di Andrea è il problema di tantissimi lavoratori che dopo l'infortunio perdono la famiglia, perdono gli affetti più cari, perché la disabilità non sempre viene accettata da tutti. Tra le altre cose, in quei numeri che lei citava prima, il 10% oggi sono donne, cose impensabili negli anni passati. Quindi qui la politica deve giocare un ruolo importante. E la cosa che diceva Andrea sul discorso della sicurezza, che è un peso per molte aziende, mi pongo un problema e lo giro a voi, a tutti voi. Ma in questo momento dove ci sono il caro bolletto, il caro energia, il caro tutto in sostanza, quante aziende adesso faranno ancora risparmio sulla sicurezza? Perché guardate, questo è un tema che ci toccherà discutere nei prossimi mesi. Certamente, tra l'altro, diciamolo, questo aumento degli incidenti è dovuto anche al fatto che in qualche modo è ripresa la produzione. Allora io ringrazio per essere stato con noi Emilio Deandri, che è vicepresidente dell'ANMIL. Buon pomeriggio Deandri. Buon pomeriggio a voi.